Flash Mob, lenzuoli appesi alle finestre ed un forum contro l'inquinamento del quartiere Scalo a Frosinone. La serie di manifestazioni si terranno tra domani e sabato per dire basta alla diffusione di polveri sottili. Mascherina e tuta bianca per partecipare alla manifestazione di sensibilizzazione organizzata sabato 29 gennaio a Frosinone presso Piazzale Cambo. Fa autore dell'iniziativa Luciano Bragaglia, titolare del blog Frosinone Bella e Brutta. Obiettivo eliminare la sosta dei bus Cotral dallo Scalo. Il Cotral deve andare via da Piazzale Campo perché già da decine e decine di anni lo abbiamo chiesto, lo ottenemmo in tempi non sospetti e poi sono tornati e sono usciti dalla porta e sono rientrati dalla finestra. Il Cotral tiene i pullman ore e ore i motori in moto, la notte per scaldare l'ambiente, il giorno per scaldare i motori, per caricare i compressori, il PM10 alle stelle 108 superamenti in un anno, 2010 108 superamenti di PM10. Quindi il blocco del traffico è inutile se non si bloccano prima i mezzi pesanti? Per questo abbiamo organizzato in collaborazione con Agenda 21, terremo il 28 prossimo un forum dove sarà presente anche l'assessore all'ambiente ed è invitato chiunque voglia dare un contributo per trovare nuove soluzioni. Previsto quindi per domani un forum sull'inquinamento, chi aderisce alla manifestazione ha già esposto dalle finestre delle abitazioni i lenzuoli con su scritto no ai PM10. Cosa significano questi lenzuoli che voi state stendendo dai balconi e dalle finestre? Significa che il giorno 29 noi terremo una sorta di manifestazione in piazzale Campo che ha denominato Flash Mob perché durerà non molto tempo ma avrà una caratteristica particolare che dovrà lasciare il segno. Invitiamo ad andare via il Codral e istituire il biglietto integrato tra GF e Codral perché non è giusto che gli studenti che vengono da fuori Frosinone debbano pagare il biglietto Codral e il biglietto GF. E' una stupino se ha detto che la giovane è il biglietto del biglietto Codral e il biglietto del biglietto di Codral e il biglietto di Codral e il biglietto di Codral.